Questo premio ha il miglior carro, quindi migliore movimenti, migliore coreografia, migliore ballo, ma anche per quanto riguarda le figure di cartapesta appunto che ha espresso e anche forse l'anticipo, la favola, l'interpretazione che ha dato, la riuscita ha fatto della favola davanti al palco. A chi va? Va Proloco Sant'Angelo! Vince il primo premio Città di Treviso, Cadevale e Trevisano, edizione 2024. Questo era il premio la signora Manigrazia. Sant'Angelo! Dov'è Sant'Angelo? Stai ancora aspirando! Stai ancora aspirando! Stai ancora aspirando!